Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, coda in uscita a Firenze Sur provenendo da Bologna per traffico intenso. Sulla Firenze Mare ci sono 4 km di coda per un incidente tra Pistoia e Prato Ovest e coda per traffico tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, tutto in direzione di Firenze. E arriviamo in Fipilì nella carreggiata verso Firenze, troviamo un km di coda per Cantieri e il km 17 tra Montelupo e Ginestra e coda a tratti tra Ginestra e Firenze Scandici per traffico. Siamo al traffico urbano del capoluogo per Cantieri in via Santa Reparata, il tratto via Guelfa via 27 Aprile sarà chiuso fino al 22 luglio. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!